Il regno dei cieli Il regno dei cieli, questo ingresso nella pienezza della vita, nella misura in cui combattiamo non sprovvisti di aiuto, di sostegno, combattiamo sorretti dalla forza della grazia del Signore, da questo nostro impegno ad aderire in pienezza al progetto che egli ci affida e che dobbiamo incarnare nella precarietà del tempo presente. Questa pagina è quella che ci consola, ma non la consolazione così del momento di cui abbiamo bisogno, che ci fa vivere sempre in questa certezza. La fatica dell'oggi è certezza della beatitudine del domani. La fatica del transitorio è certezza della beatitudine definitiva, senza tempo. E' pienezza di incontro con colui che con la parola indica a noi il cammino. E nella fedeltà a questa parola poi c'è la garanzia della promessa. Vostro è il regno dei cieli. Beati voi, oggi, poveri, miti, pazienti, misericordiosi, perché grande sarà la consolazione nel regno dei cieli che per noi inizia già da ora.